Attenzione Pirlo, mettila dentro bene adesso, non è riuscito lo schema che aveva porato al gol Stam, ora Zedorf, Zedorf che li mette in mezzo, posizione regolare, attenzione, solo Calazze, tiro! Zanna Bianca, Zanna Bianca, Calazze, Zanna Bianca, Zanna Bianca, Zanna, 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 Zanna Bianca al 24, Zanna, Zanna, Zanna Bianca al 24, la Corriandolo Connection, e allora lui, Calazze, Calazze, Zanna Bianca, 24 minuti di gioco, solo in libero rivediamo lo splendido passaggio, libero in posizione regolare, ferma ed esplode un sinistrone splendido, Zanna Bianca, Calazze!